Partirei da quest'ultima tua osservazione. Negli ultimi pochi anni, negli ultimi 3-4 anni sono stati installati soltanto nella parte occidentale, quindi nel nord globale, circa 1 miliardo e 400 mila sensori per l'internet delle cose. Gran parte dei quali sono costruiti nei muri delle case, gran parte dei quali sono stati introdotti nei nuovi televisori, in tutti gli apparecchi elettronici che compriamo e gran parte del quale sono stati inseriti nelle automobili. Dopodiché parte di questi sensori invece fissi sono inseriti negli spazi pubblici e sono quelli con i quali i nostri meccanismi elettronici si collegano senza che noi lo sappiamo. Queste cose vengono chiamate smart, nel senso che noi sentiamo a parlare costantemente di smart cities, smart cars, eccetera. Tutte le volte in cui si sente la parola smart io penso sempre che gli smart siano loro e i cretini siamo noi, scusatemi, perché purtroppo qui la situazione sta diventando davvero molto preoccupante, soprattutto alla luce di quello che è stato detto adesso. C'è in costruzione un gigantesco dispositivo, e qui proprio la parola dispositivo studiato da Foucault è direttamente utilizzabile per parlare dei dispositivi elettronici che noi compriamo, un gigantesco dispositivo di controllo sociale di tutti quanti che viene ovviamente sperimentato per fare un passo in avanti in modo da rendere in qualche modo l'umanità coerente con la nuova frontiera. Giustamente il mio intervento parla di frontiera di tanto tempo fa, del saccheggio coloniale, eccetera. Quella era la frontiera della modernità. Con la modernità si scoprono le Americhe, nelle Americhe si sperimenta tutto ciò che non si poteva fare all'interno del nostro continente europeo. Perché non si poteva fare? Perché la tradizione, qualcuno ha parlato prima degli anziani e dei giovani, perché la tradizione lo impediva. La tradizione giuridica, per esempio, impediva la sperimentazione di ideologie proprietarie come quelle di Locke, per esempio, che presupponevano la tabula rasa, un'idea di un vuoto che viene colmato attraverso delle istituzioni giuridiche fortemente semplificate, fra le quali i due capisaldi della modernità, che sono la proprietà privata assoluta, il dominio dispotico di cui hanno parlato i giuristi, da un lato è la sovranità dello Stato, che sono i due poli organizzativi intorno ai quali noi abbiamo costruito le categorie giuridiche e politiche della modernità, il pubblico e il privato. Oggi la frontiera non è più una frontiera fisica, non abbiamo più le scoperte di Magellano, di Amerigo Espuccio, di Cristoforo Colombo, ma chiaramente la frontiera è una frontiera di tipo informatico, quella che Floridi aveva chiamato qualche anno fa l'infosfera. Questa frontiera di tipo informatico condivide con la frontiera fisica, la frontiera dell'inizio della modernità, una caratteristica fondamentale, che ha reso il capitalismo da essa completamente dipendente. Oggi è impensabile immaginare il capitalismo nella forma attuale, quindi nei rapporti di produzione capitalistici globali, senza la mediazione della rete di internet. Se voi pensate alla vostra vita quotidiana, e quelli di noi che sono un pochino più anziani, che non sono nativi digitali, riflettono sugli ultimi anni, si rendono conto perfettamente che nulla può oggi più funzionare se non meniato dalla rete. Se vai a comprare un biglietto del treno, quando andavo a comprarlo io per andare a trovare i miei amici in età giovanile, c'era un signore che mi faceva il biglietto del treno a mano, certo io sono molto anziano, però oggi se arrivi in stazione e il computer è giù, tu il biglietto non lo compri e il treno non lo prendi, perché la sostituzione della macchina all'umano, in queste operazioni anche molto semplici, quali quelle di fare un biglietto, è tale per cui semplicemente non sia più possibile farne a meno. Tutto questo se lo estendete nel mercato finanziario, le banche, i nostri soldi e tutto quanto, vi rendete conto perfettamente che chi può accedere al master switch, come è stato chiamato in un famosissimo libro molto importante di un signore che si chiama Tim Wu, che è un professore della Columbia University, chi ha il controllo del master switch, che sarebbe l'interruttore centrale, è colui che in realtà può disattivare il capitalismo. La frontiera, in questa frontiera si sperimentano molte cose, la frontiera dell'infosfera è una frontiera di cui il capitalismo è dipendente, che deve essere naturalmente tutelata in un modo assolutamente molto molto forte, tramite che cosa? Tramite la costruzione di una serie di tabù, di una serie di ideologie, di una serie di convinzioni generalizzate che non si possono mettere in discussione. Faccio un esempio molto semplice, quando ci arriva una posta elettronica, normalmente c'è scritto sotto, in quelle di Gmail c'è, in varie altre, c'è scritto non stampare questa posta elettronica mantieni l'ambiente salubre, dando una sorta di messaggio criptico per cui sostanzialmente la posta elettronica è un modo di comunicare dal punto di vista ecologico totalmente sostenibile, mentre stampare la carta e spedire una lettera non lo è. Questo che cosa significa? Che il messaggio che passa è che in realtà la rete internet vive in una sorta di, adesso si parla di nuvole, no? Vive in una sorta di empireo astratto, assolutamente pulito, e noi ne abbiamo, come dire, in qualche modo la disponibilità come una sorta di seconda natura, no? Come se esistesse già. In realtà la rete internet è fatta di una parte, che è l'hardware della rete stessa, sono dei giganteschi cavi, estremamente grossi, che passano sotto i mari, eccetera, sono una serie di server potentissimi, che consumano una quantità spaventosa di energia, che necessitano energia nucleare per funzionare, e che semplicemente nessuno sa dove siano. Si sa vagamente che sono collocati nella zona dell'Occidente degli Stati Uniti, tra la parte, diciamo, del nord dello stato della California, lo stato di Washington e di Oregon, pezzi pare siano nel Canada, ma non si sa bene, una delle tesi più accreditate è che il famoso master switch, cioè il server centrale, quello davvero importante, stia in un sottomanino nucleare a largo di Seattle. Tutto questo si va a schiantare contro quello che è la nostra impronta ecologica. Se noi guardiamo l'impronta ecologica, cosa che se chiedo, adesso qui siamo in un pubblico ampio, quanti sanno che cosa sia l'impronta ecologica, l'esperienza drammatica, che io sperimento ormai un po' in giro per tutto il mondo, è che nessuno ha idea di che cosa sia l'impronta ecologica. Quando trattasi di uno dei concetti più semplici e più banali, è quello che, avendo soltanto alcune risorse che sono riproducibili, che sono in qualche modo il flusso di reddito che deriva dal capitale, usiamo questa locuzione neoliberale perché è l'unica che ormai le persone capiscono, purtroppo, quindi tu hai un capitale, il capitale ti dà un certo reddito, se tu hai un'impronta ecologica equilibrata, devi vivere soltanto del reddito. Quindi l'impronta ecologica giusta è 1, oggi l'impronta ecologica globale è 1.4, 1.5, il che significa che tutti gli anni, verso luglio-agosto, siamo nel cosiddetto overshot day, vale a dire il giorno nel quale consumiamo, abbiamo finito di consumare risorse che sono teoricamente riproducibili, incominciamo a consumare delle risorse che non saranno mai più riprodotte. Questo 1.4 è una pessima impronta ecologica, ma la cosa ancora più pessima, e questo dal punto di vista ideologico, è il dato reale, è che i luoghi nei quali, che vengono indicati da tutti come i più avanzati del mondo, la famosa Silicon Valley, dove ci si va a far fotografare, se si diventa primi ministri, da Twitter, da Cupertino, a Palo Alto, a Menlo Park, nei famosi posti della famosa Silicon Valley, ebbene, l'impronta ecologica della Silicon Valley è 6, il che significa che se tutto il mondo vivesse, si sviluppasse per diventare come ci dicono che potremmo diventare, cioè come nella Silicon Valley, crescete in modo tecnologicamente avanzato, importiamo questo modello di sviluppo, ci vorrebbero 6 pianeti per poter mantenere tutti quanti questo tenore di vita, il che significa che l'impronta ecologica è appena 1.4, perché dal Burkina Faso all'India, la stessa Cina, l'impronta ecologica è molto più bassa rispetto a quella che è l'impronta ecologica dell'Occidente ricco, d'accordo? La Cina ha un'impronta ecologica più che doppia rispetto a quella degli Stati Uniti, anche se viene normalmente indicata come il posto in cui ecco tutti inquinano e fanno delle cose, e fanno delle cose tremende, e da metà, sì, la metà degli Stati Uniti, scusate, e fanno quella pro capite e doppia negli Stati Uniti rispetto a... Insomma, quello per dirvi che abbiamo una situazione molto, molto squilibrata, e che quindi se poi dopo ci stupiamo, per esempio, dei flussi migratori, delle varie situazioni drammatiche che si verificano, questo è semplicemente un motivo del fatto che l'equilibrio globale è un equilibrio fortemente sbilanciato dal punto di vista dei consumi. nessuno dei temi che abbiamo affrontato qui può essere, compreso il tema della Costituzione, mi dispiace che sia andato via proprio adesso Paolo, è affrontabile senza un'analisi seria dello stato del capitalismo attuale, perché altrimenti noi ci mettiamo a ragionare di categorie astratte e non capiamo le condizioni materiali nell'ambito del quale l'umanità si trova a vivere e quali sono le possibilità, anche i rischi, legati alla costruzione di questi dispositivi. Esempio molto semplice, gli untori, no? Teniamo fuori i bambini che possono contagiare tutti gli altri, che cosa significa? Che le mamme di questi bambini sono dei cattivi cittadini, perché non investono sufficientemente in precauzione rispetto agli altri, si costruisce un modello moralistico contro quelle particolari mamme. Questo modello moralistico rende in qualche modo utilizzabile una sorta di, come dire, implementazione diffusa di un ordine giuridico assolutamente contrario al precetto della Costituzione medesima. La Costituzione prevede che non si possano imporre trattamenti sanitari obbligatori, no? Se non in casi assolutamente particolari, ed è chiaro che una vaccinazione a tutto raggio, fatta per tutti quanti e rinnovata, come ci ha raccontato Viale, non rientra in quelle categorie di eccezionalità che giustificano in qualche modo il trattamento sanitario obbligatorio. Questo lo capisce anche quel professore che hai nominato prima. Allora, il punto vero di questa situazione è che oggi quella sperimentazione che viene fatta in Italia per estendere i vaccini in tutto il mondo, io credo che venga anche fatta per sperimentare una futura possibile frontiera, che è quella di rendere l'internet delle cose sempre più inevitabile. In altre parole, se voi ci fate caso, quando vi comprate un telefonino di questa generazione ultima, non potete più togliere la batteria. Vi sarete chiesti perché non si può più togliere la batteria? Perché togliendo la batteria ci si può disconnetter rispetto a tutte quelle cose che ce ne sono certamente anche qui, perché le università naturalmente sono i luoghi smart per eccellenza, quindi abbiamo tutti i rettori, i professori, che dicono che è molto importante robotizzare, rendere smart le università per competere col mondo che avanza, con le MIT e quant'altro. Allora, tu non puoi più togliere la batteria dalla cosa, non lo puoi togliere fisicamente, certo potresti smontare il telefono, ma guardate che se voi comprate questo telefonino e lo accendete, o questo vale per la vostra televisione, per qualunque oggetto smart, prima di poterlo utilizzare, dovete premere una serie di pulsanti, sui quali c'è scritto I agree, I agree, I agree, I agree. E voi di che cosa accettate, naturalmente, senza leggerlo, perché figuriamoci se uno che si è appena ricevuto per Natale, nella bianca notte un cellulare, e si mette a leggere quello che sta accettando. E per di più, se si mette a leggere o non accetta, allora non gli funziona il regalo, quindi tanto vale che lo restituisca. Quindi la cosa è assolutamente priva di qualunque possibilità. Tu hai accettato in quel momento una serie di cose che non accetteresti mai in una tua normale proprietà, in una tua normalissima proprietà. Per esempio, hai accettato il fatto che non la potrai portare a riparare da chi ti pare, ma dovrai portarla a riparare soltanto da quello che ti indica il venditore. Questo è un primo punto. Hai accettato il fatto che non potrai hackerare, cioè manipolare la tua proprietà per renderla compatibile con un altro sistema operativo, perché supponi hai comprato un Apple e vuoi renderlo operativo con un sistema Android o robe di questo genere. Perché se fai quello, commetti un reato. Hai accettato semplicemente una giurisdizione all'interno della quale tutta una serie di comportamenti che sono comportamenti totalmente normali che si mettono in piedi rispetto a un proprio oggetto sono in realtà dei comportamenti che sono rilevanti dal punto di vista penale. Hai in più accettato anche il fatto di togliere di mezzo qualsiasi giurisdizione, per cui accetterai che utilizzando questo strumento e scaricando qualsiasi tipo di app piuttosto che di programma dello strumento stesso, implicitamente ti accordi del fatto di non poter più andare in una giurisdizione sia esordinaria e amministrativa a far causa a qualsiasi di questi providers che ti hanno venduto quei dati. Voi sapete che su un miliardo e cinquecentomila, sono tanta gente, utenti di Facebook, che i nostri giornalisti ci dicono la più grande nazione del mondo, ecco, quel miliardo e cinquecentomila utenti di Facebook sono andati ad utilizzare il sistema di risoluzione delle controversie tra l'utente e Facebook stesso, indovinate in quante volte nella storia di Facebook? 64. Vale a dire, è stato completamente tolto di mezzo qualsiasi strumento di accesso alla giurisdizione ordinaria a causa del fatto che l'hai escluse in quel modo e anche quella speciale che ti viene, come dire, costruita e offerta come giurisdizione privata non viene semplicemente utilizzata mai. Ok? Cosa significa questo? Significa che in frontiera possiamo fare a meno del giurista. Cioè, in frontiera possiamo stare, in frontiera della frontiera dell'infosfera, non è più necessario per costruire la struttura portante del capitalismo la presenza del diritto. Il giurista ed il diritto sono stati sostituiti dalla situazione di fatto di una serie di persone che sono i programmatori che riescono ad introdurre dei processi che fondano le basi di transazioni economiche al di fuori di qualunque possibilità di controllo da parte dei giuristi. Voi mi direte ma che bella cosa perché i giuristici stanno molto antipatici e io sono anche dell'idea di questo da un certo punto di vista perché purtroppo li frequento molto. Però il punto vero è che mentre nella storia tutte le rivoluzioni fin qui hanno sempre cercato di togliersi dai piedi i giuristi ma non ci sono mai riuscite perché prima o dopo la loro presenza era necessaria per costruire le basi di una società organizzata fondata sullo scambio oggi per la prima volta è possibile. Il che significa che mentre prima il capitalismo doveva in qualche modo sopportare i pistolotti dei giuristi che gli dicevano ma guarda che ci sono anche gli standard di decenza ci sono i diritti umani fondamentali ci sono non si possono imporre vaccini obbligatori non si possono fare una serie di cose senza ragionevolezza perché quel ceto era un ceto in qualche modo indispensabile per la funzione primaria di accumulo capitalistico oggi che quel ceto lì non serve più anche le nostre prediche sono destinate a rimanere come diceva il buon bondile blowing in the wind sono destinate a rimanere completamente inascoltate per il semplice fatto che che incentivo hanno di ascoltare Ugo Mattei che gli fa il predicozzo se poi non ne hanno bisogno per poter estrarre valore nei rapporti economici e commerciali utilizzando le sue dottrine sul contratto e sulla proprietà semplicemente se lo tolgono dai piedi nell'uno e nell'altro e nell'altro settore questo è una sperimentazione che per ora sta avvenendo in frontiera nell'infosfera ma che sempre più rapidamente io prevedo arriverà anche nella madre patria cioè nel mondo offline come oggi si chiamano perché quelle sperimentazioni lì vengono fatte in quel luogo e poi dopo ricadono anche nella nostra vita quotidiana proprio come le sperimentazioni di saccheggio nell'America latina e soprattutto nel nord america sono ricadute nella strutturazione del capitalismo della madre patria questo è un punto secondo me di una certa gravità anche perché quel miliardo adesso non puoi più togliere la batteria e c'è il diritto penale che in qualche modo presiede alla tua obbedienza rispetto a quello che hai accettato chiamiamolo così ma e questo è gravissimo perché nel momento in cui tutti noi dal primo all'ultimo commettiamo dei reati senza saperlo perché premiamo dei pulsanti noi tutti dal primo all'ultimo possiamo essere inquisiti per quello che abbiamo fatto e quindi noi dal primo all'ultimo possiamo finire nei guai proprio come è successo ad Aaron Schwartz negli Stati Uniti d'America quanti di voi hanno sentito parlare di Aaron Schwartz nessuno ecco bella roba Aaron Schwartz è un signore un ragazzo di 26 anni che era il genietto a 12 anni era uno dei geni del un giovane informatico genio che aveva preso una sua consapevolezza politica ok aveva fatto dodicenne la il coding per il famoso programma di quello di Larry Lessig che si chiama open digital commons insomma quello praticamente i commons per il copyleft quindi insomma era un personaggio di grandissimo livello a un certo punto capisce l'importanza capisce questi discorsi e pubblica un piccolo manifesto che si chiama guerrilla for the open culture guerrilla manifesto andatevelo a vedere lo trovate lo trovate online pubblica questa cosa e incomincia a dire che l'unico modo di mantenere la società come una società di liberi non una società di schiavi è quella di rendere la cultura accessibile a tutti siccome era un genio e sapeva fare queste cose penetra nella notte negli archivi dell'MIT del Massachusetts Institute of Technology e scarica tutte le collezioni di J-Store che è il più grande collettore di dati scientifici che ci siano nel mondo e li rende pubblici fa questa operazione di guerriglia per rendere accessibile questa informazione sulla base di una consapevolezza di una consapevolezza politica impressionante perché nel guerrilla manifesto c'è tutto un ragionamento sul fatto dell'oiato fra i paesi ricchi e i paesi poveri la cultura come deve essere in qualche modo accessibile distribuita insomma un personaggio di grande spessore nonostante la giovane età viene ovviamente preso di mira dall'FBI e nonostante ottenga un accordo con J-Store per uscirne dalla cosa io lui conoscevo bene il suo avvocato che mi ha raccontato tutta questa cosa distrutto dai conti che ha dovuto pagare di avvocati di altre altre spese di questo genere all'età di 26 anni si è suicidato e si sono quindi tolti andatevelo a vedere c'è un bellissimo documentario che racconta la storia si chiama Kill Switch vale la pena di vederlo perché è esattamente la storia di come in frontiera la partita si svolga tutta e fra programmatori e così come una volta il giurista critico era visto come il peggior nemico del capitalismo stesso Pasciucanis viene ammazzato dallo stesso Stalin perché aveva introdotto una riflessione critica sul diritto che dava fastidio a chiunque volesse costruire delle strutture di sovranità quindi era sostanzialmente demonizzato perché al corrente conoscitore del segreto iniziatico ma dall'altra parte stessa cosa successa per Aaron Schwartz ok quindi lì una partita davvero importante che cosa impedirà un domani di far uscire una legge che per ragioni di sicurezza e per lotta contro il terrorismo ci obblighi a introdurci con una piccola iniezione un microchip sottocutaneo che si collega automaticamente con i vari sensori che ci sono nel mondo signori miei assolutamente nulla dal punto di vista tecnico è già totalmente possibile ci sono già state sperimentazioni quella di introdurre particelle talmente piccole che possono essere sostanzialmente iniettate sottocute per cui potrebbero anche addirittura io non voglio fare naturalmente perché se no poi mi dicono che sono un conspiracy theorist che è il modo di dire di qualcuno che cerca di pensare criticamente gli dicono fai la conspiracy theory ma la verità vera è che oggi la tecnologia se non oggi fra tre anni cinque anni otto anni ma nel tempo molto vicino la tecnologia consentirà cose di questo genere in modo assolutamente banale perché sono già totalmente possibili oggi questo telefono che è un telefono di livello medio scarso nel senso non mi sono mai comprato il top di gamma è già molto più potente del top di gamma dell'apple computer nel 2005 ok cioè l'accelerazione tecnologica legata alla cosiddetta legge di Moore poi queste sono cose che sono un po' complicate fa sì che questi tipi che oggi noi abbiamo un telefonino di livello medio basso molto più potente del top di gamma della migliore computer non di trent'anni fa di quattro cinque otto anni fa quindi siamo a delle accelerazioni davvero davvero impressionanti io credo che le condizioni della tecnologia debbano essere affrontate in modo molto serio e sono delle condizioni che io ritengo hanno trasformato profondamente i nostri sistemi politici portando alla sparizione totale della famosa contrapposizione fra pubblico e privato sulla quale abbiamo costruito la civiltà liberale che ci governa o comunque la civiltà moderna quando Barack Obama era stato eletto presidente degli Stati Uniti io osservai in qualche modo pensai fra me e me e dissi anche da qualche parte secondo me Obama è come Gorbachev Gorbachev era stato l'ultimo dei comunisti all'interno del sistema sovietico che aveva cercato di trasformarlo dall'interno e non c'è riuscito Barack Obama è stato l'ultimo degli americani a provare a trasformare il sistema liberale dall'interno a provarci secondo le possibilità concrete di farlo che erano assai limitate perché non era un uomo particolarmente coraggioso e comunque è stato l'ultimo a farlo l'esito da un lato Putin da un lato l'evoluzione che ha portato a Putin dall'altro Donald Trump e poi dopo questo modello di governo che stiamo vedendo ovunque da modi in India alle trasformazioni del partito forse il partito comunista cinese è un po' diverso dagli altri di questo si potrebbe parlare ma resta il fatto che si sono istituite delle costituzioni tecno-fasciste in altre parole delle costituzioni delle strutturazioni che si sono liberate completamente del vecchio controllo della vecchia dicotomia pubblico-privato oggi nei consigli di amministrazione di Facebook e delle 4-5 grandi corporation e questo è vero anche per i grandi gruppi farmaceutici siedono tanto dei rappresentanti del capitale quanto dei rappresentanti del Dipartimento di Stato della CIA dell'FBI perché non c'è più sostanzialmente la separazione non può più esserci chi è che si occupa chi è il proprietario di queste grandi strutture di internet di chi sono chi mantiene quei cavi chi ha le chiavi per entrare ad aggiustare quel master server chi è che fa gli investimenti per migliorarlo semplicemente non lo sappiamo io sarò un ricercatore ignorante zuccone asino come dice quel signore ma sono tre anni che provo a trovare dei lavori scientifici seri sul hardware sulla parte hard della rete di internet e non si trova assolutamente niente non c'è un paper scientifico che affronti dal punto di vista teorico quella che è la questione della proprietà delle infrastrutture materiali che governano l'infosfera voi sapete che questa roba qui è un aggravio delle nostre conoscenze estremamente estremamente pericolosa allora se così stanno le cose e vado rapidamente alla fine perché ho parlato già fin troppo io credo che noi non possiamo trovare delle soluzioni che si facciano carico dei problemi così come essi si verificano a questo livello di sviluppo tecnologico all'interno delle vecchie strutture dell'ordinamento costituito noi non possiamo immaginare che possano essere i legislatori ordinari dei paesi del mondo siano essi paesi deboli e semiperiferici come il nostro ma siano anche i grandi blocchi avanzati che siano in grado effettivamente di mettere sotto controllo il potere economico così come è venuto a svilupparsi oggi i rapporti di forza tra privato e pubblico sono drammaticamente cambiati mentre Leviatano un tempo era un signore privato contro il quale avevamo costruito il diritto costituzionale liberale per proteggere l'individuo la proprietà privata la privacy la nostra entità la persona rispetto alle potenziali deviazioni del potere concentrato oggi le cose non stanno più così oggi non è più il privato essere più debole del pubblico e necessitare la tutela nei confronti del pubblico stesso ma il pubblico sono questi sgangherati stati sono questi sistemi burocratici che sono stati talmente colonizzati dal capitale privato per cui nessuna delle scelte che vengono fatte può essere più considerata una scelta effettivamente politica ma voi pensate che sia stata davvero la Lorenzin uomo o donna che sia a decidere questa cosa dei vaccini ma stiamo scherzando e pensate davvero che siano state le istituzioni europee sulla base di qualche think tank di alto livello ma scherzate proprio sono stati consigli di amministrazione due, tre, quattro grosse multinazionali che erano le stesse che i tempi della mucca pazza vi ricordate quando venivano costruite ogni tanto queste situazioni in emergenza avevano creato le condizioni per poter operare delle estrazioni come dire molto importanti perché per la mucca pazza in Italia avevamo comprato una quantità di vaccini che poi abbiamo buttato via impressionante milionate 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 tutto quello che volevamo ma c'è stato l'allarme mucca pazza adesso si è capito come spesso avviene che il momento di estrazione di accumulo originario quello che il vecchio Marx chiamava l'accumulazione primitiva non è un momento specifico non è bisogno soltanto di un episodio le torri gemelle allora dichiaro la guerra no semplicemente si tratta di un modello come dire permanente di strutturazione della società che consente a questi processi di andare avanti in modo lineare sempre in quella particolare direzione allora come si risponde a questo io credo si risponde attraverso prima di tutto bisogna avere l'umiltà di provare a capire questi processi e provare a capire questi processi non è facile perché ti oppongono ma tu Mattei sei un giurista che ne capisci di informatica ma tu Viale sei un sociologo che ne capisci di medicina la medicina e l'informatica non sono democratiche esattamente questo è il punto quindi c'è necessità di una cultura che sia nuovamente una cultura di tipo olistico una cultura di tipo interdisciplinare o controdisciplinare che sia capace una volta tanto ad esercitare ad esercitare un controllo critico che sia un controllo critico sulle cose che lo specialismo cerca di farci ingurgitare questo è un punto secondo me molto molto importante la seconda cosa è capire che oggi noi come individui non contiamo più niente non importa più niente nessuno di noi come individui noi siamo delle categorie merceologiche nel momento in cui qualche cosa ci viene dato gratis significa che noi siamo la merce quando qualche cosa è gratis il prodotto sei tu in qualche modo allora noi non siamo individui ma siamo categorie merceologiche e siamo categorie merceologiche che sono interessanti nel momento in cui veniamo raggruppati insieme attraverso la forza computazionale che sta aumentando in modo rapidissimo e che quindi mette in discussione ma le stesse idee di Hayek vi ricordate quando Hayek diceva la teoria della conoscenza liberale qual era che il piano sovietico è destinato a perdere rispetto al libero mercato perché il libero mercato ha molte più informazioni di quante ne abbia il piano per cui i sovietici non sapevano non avendo il mercato libero che produce informazione erano destinati al fallimento perché tanto sostanzialmente non si sapeva quanti stivali e quante scarpe col tacco lungo erano desiderati in quel momento e quindi si producevano troppi stivali e troppe poche scarpe col tacco e questo comportava l'impossibilità di far funzionare il piano oggi non è più così oggi la capacità computazionale crea una capacità pianificatoria molto più forte rispetto alla catalassi del mercato cioè non c'è più secondo me un elemento che sia uno per cui il potere diffuso possa imporsi rispetto al potere concentrato nel momento in cui il potere concentrato mette sotto controllo la tecnologia ai livelli in cui la tecnologia è messa sotto controllo oggi il che significa che dobbiamo ripensare le stesse basi del dibattito teorico filosofico che ci hanno accompagnati dalla modernità ad oggi è un compito molto molto serio e molto molto importante che però bisogna incominciare a fare bisogna che qualcuno abbia il coraggio di prendersi del buffone ma mettersi nella strada di andare a parlare di queste cose dove di queste cose bisogna parlare siccome non contiamo più come individui ma come categoria merceologica davvero finito scusami Guido abbiamo una da prendere in considerazione la necessità di ricostruire istituzioni del collettivo l'individuo è morto l'individualismo basato sul diritto soggettivo assoluto è come diceva Rosa Luxemburg a proposito della socialdemocrazia tedesca dell'epoca un fetido cadavere cioè qualche cosa che non ha più alcun senso di esistere perché oggi ci sono i collettivi che vanno ricostruiti o ricostruiamo una situazione di collettivizzazione anche di quelle persone che non accettano di essere merci da estrazione capitalistica o ci siamo fatti riempire la testa di nozioni che ci depotenziano quando io sento dire che su alcune cose come i diritti civili liberisti sono più avanzati e quindi li vogliamo dare spazio per esempio adesso parlando di politichetta italiana questo accordo fra Pisapia da un lato e la Emma Bonino uno dei quali a favore della legge Fornero e quell'altro e quell'altro è contro allora chi in realtà non capisce che il discorso sui diritti siano pure i diritti più importanti di tutti come quelli sul nostro corpo quelli sulla nostra identità sessuale sono destinati a non servire assolutamente a nulla nel momento in cui non li caliamo nelle realtà politiche che sono delle realtà politiche di individualizzazione progressiva a favore dei soggetti economici organizzati centralizzati secondo me stiamo lavorando su delle categorie che ci portano in qualche modo lontano dalla direzione giusta quindi ricostruire istituzioni del comune ricostruire solidarietà ricostruire strutture di condivisione anche fondate sull'amore anche fondate sulle cose splendide che abbiamo sentito nella prima parte di questo pomeriggio è secondo me molto importante perché quello è il solo modo all'interno del quale si può avere il coraggio di opporsi in modo radicale a delle leggi che sono delle leggi insostenibili ingiuste e che creano io credo obblighi collettivi di resistenza vi ringrazio grazie a tutti